Buongiorno a tutti, sono Francesco Meli e interpreto Alfredo in questa traviata con la regia di Davide Rivermore diretta dal maestro Zubin Meta. Alfredo in questa nuova produzione è un giovane ragazzo del 1968 che perciò vuole vivere la sua vita in maniera spericolata e si trova a avere a che fare con una donna spericolata come Violetta che altrettanto vuole vivere la vita appieno, anzi anche di più. Perciò sono vittima dei loro anni, dell'ipocrisia che c'era tra questa rivoluzione tra i giovani e invece una sorta di ritorno al passato, di rimanere nel passato invece di una classe più adulta e non possono fare niente contro un destino che era già scritto, perciò assolutamente vicino a quello che è la traviata scritta da Verdi nell'Ottocento. Perciò vi aspettiamo numerosi per il nostro nuovo allestimento di traviata al Maggio Musicale Fiorentino. Un bacio a tutti quanti. Ciao!